Garantire una corretta formazione agli studenti con autismo e destinare ad essi figure professionali ad hoc, questo l'obiettivo del protocollo siglato tra l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Associazione Genitori Autismo Molise. Una giornata importante per tutta la nostra comunità scolastica, le parole della Presidente dell'USR Anna Paola Sabatini che aggiunge l'inclusione è uno dei valori essenziali della nostra attività formativa quotidiana. Per raggiungere l'obiettivo a vantaggio dei bambini autistici sarà applicato il metodo ABBA che si basa sull'analisi del comportamento e gli eventi che lo causano. Un progetto che coinvolgerà tutti, a partire dalla famiglia, per arrivare anche agli insegnanti di sostegno che beneficeranno del supporto di un professionista del settore. A spiegare nel dettaglio le linee guida del protocollo, il Presidente dell'Associazione Autismo Molise, Vincenzo Germano. Il progetto prevede in sintesi la possibilità che una figura specificamente formata possa essere inserita nel sistema scuola affinché collabori non solo con gli insegnanti di sostegno ma anche con l'intero corpo docente della classe proprio che utilizza questo metodo ABBA, cioè delle metodologie comportamentali che hanno un dubbio scopo di rimere i comportamenti disfunzionali del bambino e poi promuoverli quelli corretti. Questa iniziativa rappresenta un volano proprio per accelerare i processi di inclusione dei nostri ragazzi con autismo. Per questo vorrei anche sottolineare la sensibilità manifestata dalla dottoressa Sabatini che da subito ha colto la fattibilità e la positività di questa iniziativa senza lasciare anche poi la compartecipazione della dottoressa Antonelli che ci è sempre stata vicina in questa e in altre iniziative. Cerchiamo insieme con una sinergia concreta e reale di estendere questo progetto, questo assistente tutto RABBA, così per brevità l'abbiamo chiamato, su tutto il territorio regionale e quindi di addivinire ad una linea comportamentale, educativa, condivisa tra tutti i soggetti perché soltanto così i nostri ragazzi potranno acquisire quell'abilità di cui dicevo poco anzi e far sì che un giorno possano essere e possano occupare un ruolo positivo e non marginale all'interno della società che non si può assolutamente permettere nel costo sociale, nel costo economico.